Io torno adesso da una riunione al gruppo del Partito Democratico che si è occupato di piano sociosanitario, alla riunione alla quale abbiamo partecipato sia io che l'assessore Marroni. Abbiamo deciso che questo è un atto che dovrà essere approvato rapidamente, nonostante il parere del Collegio di Garanzia, vedremo le cose che ci sono da correggere, ma siamo intenzionati tutti insieme a portare in fondo il piano sociosanitario entro la fine della legislatura come peraltro è stato detto dal Presidente Rossi a margine del programma di mandato. Così la Vicepresidente della Regione Toschiana Stefania Saccardi cerca di mettere un punto fermo sul piano approvato dalla Giunta regionale dopo quattro anni di stallo e bocciato come legittimo dal Collegio di Garanzia e ancora una volta smentisce frizioni in giunta con il Presidente Rossi che erano state invece ipotizzate dal Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, esponente di Forza Italia, Stefano Mugnai. Il parere del Collegio di Garanzia sul piano sociosanitario integrato è stato consegnato al Consiglio regionale che adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, aveva precisato la Vicepresidente due giorni fa. La sanità è la chiave di volta del bilancio della Regione Toschiana, assorbe tre quarti delle risorse complessive e neanche a dirlo gioca un ruolo importantissimo negli equilibri politici interni.